Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di una donna forte e coraggiosa che ha perso la sua anima gemella e non ha mai trovato il coraggio di ricominciare, ma quando il destino bussa alla porta dovrà trovare la forza per uscire dalla sua comfort zone e affrontare nuove sfide. La trama del libro L'erede della felicità di Chiara Baldi, edito da Mondadori Electa, è la seguente. Dora è una donna forte. Quando stava con Marco, l'amore della sua vita, le sembrava che tutto fosse perfetto e sotto controllo. Eppure, dal momento in cui tre anni prima lui l'ha lasciata, il suo mondo è andato in frantumi e ancora oggi non ha trovato la consapevolezza per ripartire davvero. Barricata dietro una routine fondata su tre certezze, il lavoro da piedriatra in un ospedale di Milano. L'adorata nonna Ines e l'amica e confidente Cinzia ha lasciato che la sua vita privata si cristallizzasse. In ospedale, nonostante la viscerale antipatia che prova per il primario, Dora si sente utile e questo la fa stare bene, ancora di più da quando è arrivato Gennarino, un bambino che le ha conquistate il cuore. Tra piccole soddisfazioni e qualche nota grigia, la vita di Dora prosegue su binari dritti, una comfort zone che le dà sicurezza, ma il destino sta per bussare alla porta. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami cortesemente un messaggio. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale. Un caro saluto!